dunque onorificenze scudi shields scudi come l'hanno tradotto in italiano come vedete sono stati messi qua scudi della divisione sono stati messi prima delle onorificenze quindi vi trovate qui in questa parte del menu la prima è pastore che penso sia retroattiva un po per tutti che è un semplice libero alla base operativa quindi è quello che si fa all'inizio del gioco questo qua praticamente ci dà lo scudo della divisione che è questo è una cassa scudo della divisione che è questa cassa qui io adesso sono pieno non so se me l'ha tenuta sì che praticamente ci dà un esotico due pezzi classificati 500 kit della divisione e 2000 crediti fenix in più tre chiavi di cifratura quindi volendo 500 kit della divisione sono tanti sono tanti buono buona sapersi buona sapersi questa roba qui vediamo le altre vediamo le successive come vedete gli altri sono bloccate allora ci sono le prime quattro che sono state sbloccate adesso con la pace 1.8 punto 2 le altre tutte le altre saranno messe a disposizione ogni mese da qui fino all'uscita del gioco di le division 2 quindi se quattro le possiamo già fare questo mese e poi le altre una per mese piano piano ce le sbloccheranno non ci hanno ancora detto quando probabilmente andranno a braccetto ogni volta che ci sarà un evento globale, quindi ogni volta che si attiverà un evento globale ci sarà anche il nuovo scudo da prendere, come vedete poi ogni scudo da sbloccare ha il suo audio da sentire, quindi questa roba qui poi ce l'andiamo a sentire con calma. Andiamo a vedere le altre che cosa fanno, allora pericolo chiede di fare 25 riferimenti nella zona nera, questa roba qui non è retroattiva quindi come vedete io sono a 0 di 25 perché naturalmente sono entrato adesso, non ho ancora fatto niente, 25 riferimenti, i classici riferimenti insomma ve li faccio vedere ma abbastanza chiaro per tutti, i riferimenti sono quelli viola, come vedete c'è già gente che sta farmando barricata, cantiere, negozio sportivo, stazione di servizio eccetera eccetera questi sono i riferimenti quindi questo qui sarà il secondo scudo da prendere il terzo è tiratore scelto, completa tutti i contratti PIP settimanali in un'unica settimana, quindi gli 8 contratti PIP che ci sono ogni settimana, che li potete andare a prendere qua, classici ufficiali contratti PIP settimanali e non giornalieri, settimanali, sono 8 di solito e dovete farli tutti in un'unica settimana sono relativamente abbastanza semplici se avete una build decente e quindi questi qua si possono fare tranquillamente la terza, scusate la quarta, il quarto scudo elimina 10 boss importanti a Manhattan, 10 nella zona nera e 10 nel West Side Pierce quindi 10 boss importanti a Manhattan sono i classici boss della zona bianca quindi Bullet King e compagnia bella insomma li trovate sempre in giro sulla mappa soliti posti, 10 boss nella zona nera li trovate all'interno dei riferimenti la maggior parte ce n'è qualcuno che magari come questo qua che è all'interno del vicolo e non ha un suo riferimento però boss in zona nera li trovate così e quelli del West Side Pierce invece sono random quindi andate in giro a West Side Pierce, vi fate in giretto e piano piano li trovate i boss questi sono gli shields come vedete le ricompense sono sempre la cassa scudo della divisione che come detto vi ricompensano quelle cosine belle che vi ho detto prima per quanto riguarda le ricompense che poi saranno ottenibili su The Division 2 sono queste allora la fascia di ricompensa 1 sarà data da l'avere sbloccato appunto uno scudo solo lo vedete c'è uno scudo e è una mimetica per le armi come vedete c'è una cosa stipile non lo so sembra un serpente insomma qualcosa del genere la fascia di ricompensa 2 vestito e una toppa quindi 4 scudi vi da un giacchettino e una toppa la terza fascia quindi almeno 8 scudi 8 scudi ci da un emote che conosciamo già che è quella fatti sotto e una skin per lo zaino la quarta fascia che praticamente dobbiamo sbloccare tutti e 12 gli scudi ci da un'altra emote e un tatuaggio cos'è un tatuaggio penso di sì cos'è è un pupazzo pupazzetto non si capisce bene perché come vedete è queste sono le ricompense naturalmente sapevamo già che le ricompense che si ottenevano tramite gli scudi erano ricompense estetiche sinceramente mi aspettavo che almeno le emote fossero diverse da quelle che già abbiamo visto su The Division 1 però vabbè poco male le skin insomma tutta roba estetica roba che insomma quando arriveremo su The Division 2 diremo ah vedi io sono un nerd di The Division quindi ci sta questi sono gli scudi raga li riguardiamo velocemente se volete libera la base operativa come vi ho detto è retroattivo completa 25 riferimenti nella zona nera completa tutti i contratti VIP settimanali in un'unica settimana elimina 10 boss importanti a Manhattan quindi nella zona bianca 10 nella zona nera e 10 su website pierce gli altri come detto sono bloccati saranno bloccati saranno sbloccati uno al mese e la cassa che riceveremo su The Division 1 ci ricompenserà come detto con un esotico due pezzi classificati 500 equip della divisione 2000 crediti fenix e tre chiavi cifratura che poi potete andare a spendere qua giù per comprarvi se volete le casse per prendere roba nuova roba nuova roba nuova come vedete c'è la nuova cassa c'è la modello 4 nella modello 4 trovate i set commando tattico vita del nomade pattuglia di ricognizione e chiamata della sentinella non vi aspettate grandi cose perché l'abbiamo già viste in foto e sono tutti più o meno uguali quindi non sono niente niente di speciale scudi fatti regà questi sono gli scudi